Allora Mirko Palazzi torni dal impegno nazionale, è una grande faticata anche questa? Beh ho giocato due partite internazionali con la nazionale di San Marino, diciamo che sono state impegnative, sì, sono ritornato e sono a disposizione del mister e della squadra. Come ti trovi qui a Cosenza? Mi trovo bene, per ora mi sono ambientato molto bene, integrato con i miei compagni di squadra, ora sono mancato diversi giorni per via di questo impegno, però sono pronto a lavorare. Troverai qualche cambiamento forse in squadra, ma il tuo posto non si discute? Beh sicuramente, siamo molti giocatori per cui io personalmente posso solo allenarmi e cercare di convincere il mister e basta, diciamo così. Adesso ho conosciuto anche i nuovi arrivati, quelli che non avevo conosciuto come Castagnetti e Meduri, per cui sono pronto a essere a disposizione della squadra. Cosenza subito in vetta dopo due partite, te l'aspettavi? Io mi aspettavo che poteva essere un buon avvio di campionato perché siamo partiti subito decisi. Adesso è ancora logicamente presto, però possiamo far bene e vogliamo dimostrare a questa Lega Pro che ci possiamo rimanere. Come vedi questo allenatore Cappellacci? Personalmente è uno che lavora molto sul campo, per cui lo vedo uno tosto, un mister tosto. Io sono a disposizione del mister, cercherò di farmi trovare pronto e anche io ho bisogno di lavorare con la squadra. Grazie.